Ivi24 ha incontrato il presidente dell'Associazione Proloco di Adrano, Nicolò Moschitta, che ci ha parlato dei tanti progetti in cantiere relativi alla prevenzione sanitaria nelle scuole e alle gite didattiche per il territorio. Voglio ricordare che le proloco con le nuove normative è diventata anche APS, c'è promozione sociale, quindi nell'ambito di questo compito che socialmente ha la proloco ha messo su in cantiere diversi progetti con le scuole in modo particolare, era questo uno dei miei desideri e quindi sto cercando di portare attraverso altre associazioni come la Gia di Catania nelle scuole prevenzione sanitaria. Già ho diversi accordi con diversi dirigenti scolastici al fine di poter creare degli screening, delle visite gratuite da parte dei ragazzi della scuola attraverso professionisti specialisti di Adrano e questo è uno dei progetti che a breve andremo a realizzare. Un altro di cui io ci tenevo in modo particolare è quello delle gite didattiche da parte delle scuole sempre. Quindi noi a breve avremo, e ho colto veramente l'entusiasmo di tutti i dirigenti scolastici di Adrano, avremo una riunione operativa con una grossa società di agenzia di viaggi per organizzare appunto questi tour didattici attraverso anche concorso fotografico. Quindi anche questo, in questo caso ci sarà presente anche il direttore Nello Caruso, il direttore del castello, perché ripeto non si può oggi come oggi andare avanti senza il suo apporto, con la speranza di inserire anche il castello normalno nel tour, non solo per i nostri ragazzi, ma anche per quelli che ne fanno richiesta da fuori Adrano, dalla Sicilia e dall'Italia intera.